E' il luogo, la chiesa, dove riposa la salma del patrono Sant'Ubaldo. Da un anno a questa parte è, con il suo emiciclo, palcoscenico per concerti di grande spessore, come di recente quello dei Tre Tenori. E' il luogo di ritrovo, con il suo refettorio interamente ristrutturato, e anche di convegnistica, con la sua sala conferenze. Avrà pensato alla bellezza del posto, certamente da promuovere, il gruppo consigliare del PD in regione, organizzando proprio la sala conferenze della Basilica di Sant'Ubaldo per sabato, 17 settembre, alle ore 10, il convegno Cambiare si può, per spiegare le ragioni del sì al prossimo referendum costituzionale. Ospiti il sottosegretario al Ministero dell'Interno, onorevole Gian Piero Bocci, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sandro Gozzi, coordinati nel dibattito del consigliere regionale, Andrea Smacchi. Peccato che la location scelta non è piaciuta non solo agli oppositori di partito, il primo a levare gli scudi era stato il consigliere comunale di centrodestra, Francesco Gagliardi, ma neanche all'interno del PD. I dirigenti del partito Eugubino, che si sono firmati in una nota alla stampa con i nomi di Sara Cardoni, Raffaello Di Benedetto, Marco Cardile, Claudio Ruspi, Giuliano Cambiotti, Michele Sarli, Federico Panfili, Riccardo Rossi, Viviana Maringelli e Pablito Bellucci, si dicono profondamente rammaricati per la scelta della location e ammoniscono il gruppo regionale del PD per non essersi confrontato con il partito locale. Si sarebbe evitato, scrivono, un brutto scivolone, come anche di coinvolgere in modo imbarazzante soggetti ecclesiastici istituzionali. Già, perché qualche giorno fa l'opposizione cittadina, nella persona di Francesco Gagliardi, aveva coinvolto nella faccenda il vescovo di Gubbio, Monsignor Mario Ceccobelli, al quale era stata inviata una missiva. Gagliardi faceva notare a sua eccellenza l'inopportunità della location per un convegno dichiaratamente di parte nel pieno della propaganda referendaria. Le sottigliezze logistiche, scriveva, sono ancora più imbarazzanti perché tradiscono la volontà subdola di appropriarsi di un luogo che per sua natura non è suscettibile di appropriazione. Il Gagliardi Pensiero, traducibile nel classico motto scherza con i fanti ma lascia stare i santi, non ha prodotto controparte dalla curia, che d'altro canto, con Ceccobelli, ha sempre seguito la linea del no comment alle polemiche di sfumatura politica, ma nemmeno nel mondo cattolico. Ha invece suscitato malumori nel laicissimo PD, che qualche mal di pancia interno lo ha da tempo, ricordati di stidi con la segreteria, e che da sempre vede convivere anime diverse con diversi referenti ad alti livelli. Icastica la conclusione della nota dei dirigenti del PD e Gubino. Invitiamo tutti, si legge, coloro che hanno a cuore il futuro del Partito Democratico ed in particolare coloro che hanno un ruolo istituzionale, ad avere la sensibilità di rispettare quanto di più caro alla tradizione e devozione cittadina. Sarà per questi venti di tempesta interni o per qualche repentina conversione sulla via di Damasco ispirata dalla sollecitazione esterne, fatto sta che il convegno è stato spostato, non più in Basilica, ma stessa ora, stesso giorno, al più politically correct Hotel Beniamino Baldi. Problema risolto, ma i mal di pancia in Piazzo Derisi presumibilmente restano.